Se riescono a morire chi venire la vicenda... Padre, ti mostrerà la via. Cambio posizione. Pezzo di merda, ti vedo! Ti chiude la bocca, ma sarà Dio ad aprirla. Merda, gli ediniti sono vicini! Oh no! Ho sentito che la signora... Oh, non è giro! Va di uscire questa povere indotente panciulla! Così non puoi affeggiare quelle facce di cazzo perché non ti rimbalzano sul culo! E chiudetemi pure, certo! A presto, a presto, a torcero un sottamello al mio ragazzo ed entrino una scappa così stante tutto nel culo che invece di dire amen, direte agita! Porca troia! Non lasciamo capire l'assassino! Mi pare è la mano di Dio! Mi scherzerà! Enormi! Mi pare è l'asseenato! Mi pare è la mia! Mi pare è l'есьo! Mi pare è la mia! Mi pare è l'assee! Grazie.